Carro armato a ore 1, distanza 400 Colpito, bersaglio colpito Carro armato a ore 12, distanza 400 Volta, 300 Bersaglio colpito Carro armato a ore 12, distanza 300 metri Bersaglio colpito Siamo stati colpiti Monterrey è hier The enemy is getting closer to victory. Attention to the designated grid zone! The life forces have captured a zone. The enemy is also being exposed to the Grazie. Colpito! Terzaio colpito. Terzaio colpito. Terzaio colpito. Terzaio colpito. Atacco da cineria! Coordinate! Delta! Due! Eliminare! Delta! Due! Ricevuto! Aprire il fuoco! Il motore è in piano. Trasmissione danneggiata! L'enemies with it! Ce ne sono stati colpiti! Se ne sono stati colpiti! Se ne sono stati colpiti! Se ne sono stati colpiti! Non c'è il caso! Allora! Ponde? Se ne sono stati colpiti. Non c'è colpita! Non c'è colpito! Allora! Grazie a tutti. Capture the zone. Rocco! Polpito! Now our four group captured the zone. Siamo stati colpiti. Siamo stati colpiti. Siamo stati colpiti. Polpito! Stanza 350! Stanza 350! Stanza 350! Siamo stati colpiti. 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 Polpito! Polpito! Carro armato! A ore 12! Siamo stati colpiti! 450! Marcia indietro. Versaglio colpito. Carro armato a ore 12. Distanza 450. Colpito. Avanzate. È ricevuto. Avanziamo. Colpito. Versaglio colpito. Avanzare. Ricevuto. Avanziamo. Avanzare. 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 Attention to the map. Attention to the designated grid zone. Avanzare. Avanzare. Ricevuto. Avanziamo. Siamo sforziti. Il motore è in fiamme. È rinforza di capture zone. Colpito. Mi ha fallo colpito Mi ha fallo colpito Mi ha fallo colpito